Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano VI Fiorentino e la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 fare attenzione per pioggia segnalata tra Firenze, Peretola e Pisa Nord. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla FIPILI per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Buorsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!